Ciao amici di FAN TV, io sono Livia. Questa sera sono al pub San Marti, in corso San Martino Zero. Ma andiamo a curiosare dentro cosa succede. Seguitemi. Ciao amici di FAN TV, siamo sempre qui al pub San Marti. Vediamo che succede, come ti chiami? Francesca. Francesca, come mai sei qui? Che cosa sta succedendo? Siamo qui per festeggiare il suo compleanno. Ti chiami? Federico. Quanti anni compi? 20. Tanti auguri da noi, da tutti i FAN TV. Visto amici di FAN TV, scegliete il pub San Marti anche per le vostre feste di compleanno. Vi ricordiamo anche che qui al pub San Marti c'è anche un'area fumatore. Vediamo cosa ne pensi ai nostri amici. Quanto è importante avere un'area fumatore al giorno d'oggi che non si può più fumare quasi da nessuna parte? Beh, è utile perché chi vuole fumare una sigaretta in un locale come si faceva una volta, sicuramente nel San Marti può trovare un portacogliente, quindi benvengano locali come questo e del genere. Ciao Delia! Questa sera volevo chiedere un'ultima piccola curiosità. Che gente frequenta il pub San Marti? Sì, guarda, la nostra clientela è molto varia. Andiamo dai giovani fino alle famiglie con i bambini. Tutto questo chiaramente è grazie all'ambiente, adatto sia perché vuole divertirsi che perché vuole passare semplicemente una serata tranquilla in compagnia. Ci tengo a ricordarvi che San Marti in pub a Torino, il corso San Marti 0B, d'ora in poi cambia il giorno di chiusura. Vi aspettiamo tutti i giorni, tranne il lunedì, l'apertura è dalle 7 del pomeriggio fino alle 3 di notte. Numerosi, mi raccomando! Numerosi, mi raccomando!